Siamo qui oggi in occasione della pubblicazione del libro Cromorama con Riccardo Falcinelli e vorremmo porle alcune domande. La prima è, visto che in questi ultimi anni siamo sempre più immersi nelle immagini, come si riesce a catturare ugualmente l'attenzione dell'osservatore? Beh, la cosa da chiedersi è come funzionano le immagini che abbiamo intorno. Se uno le osserva con attenzione si rende conto che sono tante ma sono anche molto molto simili e quindi chiedersi se sono simili in un certo modo, come faccio a costruire qualche cosa che sia dissimile, cioè che non sia uguale a tutto quello che fanno gli altri. Sono tante ma non sono poi così originali. Ok, grazie mille. Invece io volevo chiedere, abbiamo notato durante l'incontro che lei pone molto l'attenzione sul fatto di collegare il colore a un'idea, a una sensazione o a qualsiasi cosa che noi proviamo. Secondo lei qual è il motore che fa muovere questo desiderio verso un determinato colore, ad esempio i social media o semplicemente la moda, ad esempio, che abbiamo visto spesso il colore dell'anno è il verde, quindi secondo lei cosa smuove tutto questo? Ma non credo che ci sia una risposta perché di fatto questo è un mito ma non è la verità. Cioè quando si dice quest'anno il colore dell'anno è il verde, di capi verdi se ne vendono pochissimi. Quello che si vende di più è sempre il bianco e il nero. Quindi questo è il marketing che lancia dei discorsi ma sta autopromuovendo se stesso perché poi non è vero che quello è effettivamente il colore che smuove. Quello che fa sì che le persone vengano sedotte, interessate dalle cose, è come tutte queste cose funzionano, non è soltanto il colore ma tutti i pezzi messi insieme. Ok, grazie, molto gentile. E come ultima domanda le volevamo chiedere cosa ne pensa l'epoca contemporanea della tinta unita visto che ci sono sempre di più immagini scattate da vari fotografi con vari colori e non solo un unico colore ma i più svariati. Ma io credo che questo dipenda dal fatto che siccome oggi noi moltissime immagini le guardiamo sugli schermi, soprattutto sugli schermi che sia Instagram o che sia il computer, le immagini stanno diventando molte più colorate perché lo schermo manda luce e quindi mandando luce valorizza le tinte più luminose, più sature e più brillanti. Quindi c'è una questione tecnica dietro al gusto che ne consegue. Ok, grazie mille. Grazie a voi. Andiamo. Andiamo.